a quanta fame quanta paura quanta paura ma quanta fame quanta paura che buono il cibo degli uccellini che buono che buono che occhioni grandi ecco che sulla diga a volte a chioggia ma non disturbano l'uomo si fanno questi incontri ecco sistema tiene pulito tutto vedete pulisce non ha paura dell'uomo perché ha preso confidenza ha preso confidenza ecco che scappa via va a mangiare in fondo peccato che il sole e e e e e